elisabetta gregoraci volano stracci con aloe buosi dietro le quinte scoppia il caos dopo le parole furiose colpo basso elisabetta gregoraci volto noto della televisione italiana ha recentemente perso la conduzione di uno dei programmi musicali estivi più amati battiti live questo evento ha destato sorpresa e curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui la decisione è stata presa e comunicata battiti live è un evento musicale estivo organizzato dal gruppo radiofonico radio norba che si svolge nelle principali piazze delle città del sud italia dal 2003 il programma ha visto esibirsi sul suo palco i più grandi artisti italiani e internazionali offrendo agli spettatori concerti gratuiti e trasmessi in diretta televisiva battiti live è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di musica e un'importante vetrina per i cantanti soprattutto durante la stagione estiva dopo sette anni di conduzione di successo elisabetta gregoraci è stata sostituita la notizia della sua estromissione ha fatto il giro dei media soprattutto perché la sua sostituta è un altro volto noto della televisione al riposi la blasi insieme ad alvin ha portato una nuova ventata di freschezza e dinamismo alla conduzione del programma questa decisione ha sorpreso non solo i fan di gregoraci ma anche la stessa conduttrice elisabetta sembra non aver preso bene il cambio soprattutto alla luce del fatto che stando ad alcune indiscrezioni non sarebbe stata avvisata con il dovuto anticipo in un'intervista rilasciata a tv talk alla domanda su possibili consigli per aloe buosi la gregoraci ha risposto infatti io in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo quindi non posso aggiungere altro questa dichiarazione lascia intendere che la comunicazione da parte della rete probabilmente mediaset guidata da pier silvio berlosconi non è stata tempestiva la mancanza di comunicazione tempestiva ha sollevato molte domande su come la gregoraci abbia veramente preso la notizia si ipotizza che possa essere rimasta delusa se non addirittura ferita dalla decisione e dalla modalità con cui è stata gestita tuttavia non ci sono state dichiarazioni pubbliche di astio o polemiche tra lei e aloe buosi anzi la professionalità di entrambe le conduttrici suggerisce che abbiano mantenuto una certa diplomazia almeno in pubblico interessante notare come elisabetta non abbia fatto pubblicamente alcun augurio o commento di buon auspicio per aloe buosi questo silenzio può essere interpretato in diversi modi da un lato potrebbe essere visto come un segno di disappunto dall'altro potrebbe semplicemente riflettere un desiderio di mantenere la propria dignità e riservatezza in una situazione delicata tuttavia un segnale della sua posizione arriva da un commento social rivolto al suo ex collega awan comieri che continua a far parte del programma questo supporto alla vecchia conduzione potrebbe indicare che la gregoraci non è completamente convinta dello stile più informale e cacciarone che ilary blasi potrebbe portare a battiti live un nuovo show con aloe blasi aloe blasi con il suo stile fresco e spontaneo ha già iniziato a imprimere la sua impronta sul programma insieme ad alvin la nuova coppia di conduttori sta cercando di dare una nuova energia a battiti live mantenendo comunque il focus sulla musica e sugli artisti la sostituzione di elisabetta gregoraci con ilary blasi alla conduzione di battiti live segna una svolta significativa per il programma mentre il pubblico si abitua a questa nuova dinamica resta da vedere come evolveranno i rapporti tra le due conduttrici e se emergeranno ulteriori dettagli dietro le quinte una cosa è certa battiti live continuerà a essere un appuntamento estivo imperdibile portando musica e intrattenimento nelle case degli italiani è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella